Ciao a tutti e a tutte, sono Riccardo Varone, sindaco del comune di Monterotondo in provincia di Roma di circa 41.000 abitanti. Oggi vi parlerò di mobilità e mobilità sostenibile, un tema sentito sul quale stiamo lavorando da anni a Monterotondo, soprattutto riguardo alle piste ciclabili con dei finanziamenti europei e il finanziamento del bando delle periferie che ci permetterà di avere sul territorio ben tre piste ciclabili per un totale di 10 chilometri, una mobilità alternativa all'uso dell'autovetture che permetterà di muoversi liberamente su Monterotondo. E poi penso alle nuove generazioni con lo sviluppo di un progetto dal nome Piedibus che permetterà a tutti gli studenti di Monterotondo, in collaborazione con nonni e genitori, di raggiungere facilmente la scuola senza utilizzare l'automobile ma con gruppi di accompagnamento a piedi. Mobilità sostenibile dunque pensando ad un'Italia che cresce e guardando a un'Europa in termini di finanziamenti e buone pratiche. Insomma, di questo ed altro parleremo ad Olbia il 6 e 7 settembre all'Assemblea Nazionale Ancigiovani. Grazie a tutti!